Negli action sport non ci sono le squadre ma ci sono le crew, ovvero gruppi di amici che si riuniscono insieme ad una passione comune. Questi sono i Fardamatti e il nome, credetemi, non è scelto a caso. Se mi chiedessero di smettere per due mesi, io ho lasciato persone perché mi hanno messo dal bivio, quindi se mi metti al bivio io scelgo il mio sport. Ma fare freestyle può anche aiutarti con le tipe, però non è una fioma. Ciao, sono Francesca Lukasik, direttamente dalla Pupa al Secchione 2 e Playboy. Sto preparando una sorpresina per tutte le chinchine, vedremo un pochino come andrà a finire. E' una battaglia legale questa. Lei è Francesca Lukasik, già Playmate, dico bene, in più punti del mondo, in più un azione del mondo. Calendario del MotoGP, Pupa al Secchione, quindi io qui la squalifico. Però, però, siccome al King non si butta via niente, musica. E' una battaglia legale. 3, 2, 1, applauso! Chi ha vinto, Barry? E vince Andrea, vince Andrea! Vince Andrea! Si baciano! Fa sempre più caldo, ma questo è il momento clou del King of the Diga, ovvero il re dei re. Tra tutti i vincitori dei Freestyle Contest, soltanto uno avrà l'onore di sedere sul trono del vincitore. E sarà il re di questa sedicesima edizione. Check it out! Ciao! 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 Grazie a tutti.